Se vi servono crediti, passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto. Salve a tutti ragazzi, sono sempre il mio MENZ, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati con la carriera allenatore con l'Inter. Oggi è di giovedì, sì, perché ve l'avevo promesso ragazzi, e io mantengo le promesse. Allora ragazzi, se vi siete persi l'episodio precedente, ve lo metto qui a schermo perché è stato veramente un episodio grandioso, un ottimo calcio americato, l'inizio del campionato, ma soprattutto la finale, la partita singola di Supercoppa italiana contro la Lazio. Se ve lo siete persi, cliccate e andate a recuperarlo. Vi ringrazio come al solito ragazzi per tutti i consigli che mi avete dato, ma vi ricordo ragazzi che sotto in descrizione ci sono i link per i miei social. Quindi ragazzi seguitemi su Instagram e mettete mi piace alla pagina di Facebook perché ci saranno novità anche lì sulla carriera allenatore. Quindi sondaggi e cose varie. Come al solito ragazzi saluto un po' di voi. Saluto Vaseline Trendafilov, Alessandro Sciacqua, Andrea Fumagalli, Salvatore Misseranni, Andrea Boatenga, Alessio Sestito, Andrea Ganassi, Elia Reina, Niki Forname, Francesco Colletti, Vito Cernigliaro, Davide Pecora, Fabio87isce, Nico Torto, Le Terre di Magic, Francesco Ambrosetti, Matt Tube, Davide Sapienza e Francesco Leonardi. Ciao a tutti. Ragazzi sono sempre io a mezzo, no vabbè vi saluto ragazzi, grazie per il sostegno come sempre. Allora ho un po' di cose da dirvi prima di passare alla partita, la seconda partita di campionato con il Palermo. Uno di questi ragazzi è il calcio mercato. Allora come detto oggi andiamo a giocare la seconda partita di campionato, poi ci sarà ancora qualche giorno e qualche ora di calcio mercato. Mi avete detto tutti che ho visto un po' di sorpresa quando ho praticamente rifiutato Douglas Costa al posto di De Olufeu. Allora ragazzi, Douglas Costa l'ho rifiutato per un semplice motivo. Perché non so se farò un'altra carriera con l'Inter. Probabilmente ci sarà una terza carriera allenatore con l'Inter nel caso non riesca a vincere la Champions League. Cosa molto probabile. Quindi nel caso io non riesca a vincere la Champions League ho bisogno comunque di un ragazzo abbastanza giovane come De Olufeu che mi cresca e diventi una bestia. Perché ragazzi se andate a vedere le statistiche di De Olufeu diventa molto più forte di Douglas Costa. E qui ragazzi stiamo parlando di un videogioco e sono cose oggettive. Quindi sono cose che sulla carta sono vere. È ovvio che nella realtà se io fossi l'allenatore reale dell'Inter avrei comprato Douglas Costa. Però qui ci sta anche un po' di far crescere il ragazzo, di affezionarsi a un ragazzo magari più giovane, di farlo crescere e magari di vederlo diventare magari protagonista della finale della Champions League. Questo è anche il mio obiettivo e è anche per questo che ho voluto acquistare Depay e Paco Alcassar. So che molti sono stati d'accordo, molti no. Comunque ragazzi so che comunque mi sosterrete sempre. Un'altra cosa, la nazionale spagnola sì o no, tantissimi avete votato la nazionale spagnola ma ho deciso di aspettare gli ultimi giorni ragazzi, proprio per vedere se mi arriva un'offerta di qualcos'altro. Anche se ne dubito signori, perché la Spagna è tosta. Nel caso accetterò tranquillamente la Spagna. Un'altra cosa importantissima ragazzi, oggi andiamo a vedere i gironi di Champions ragazzi. Perché? Che cazzo sto facendo qua? Perché ci sono stati fatti i gironi di Champions. Quindi andiamo a vedere come siamo messi noi nella Champions League. Partendo dal girone A, dove c'è Arsenal, Borussia Dortmund, Benfica e Celtic. Bello questo ragazzi, molto combattuto sinceramente. Girone B, Barcellona, Lazio, Spartak Mosca e Anderlecht. Vabbè, a meno di sorprese si sa già chi passa. Ecco il nostro signori, Real Madrid, Inter, Wolfsburg e Legia-Varsavia. Partite impegnative ragazzi, partite tutte impegnative. Forse ovviamente la minore è Legia-Varsavia, ma sappiamo bene che l'Inter col Wolfsburg ha fatto fatica anche in realtà. Chelsea-Valencia, PSV e Basilea. Juventus-Olympic, Lione, Galatasaray e Ajax. Non dovrebbe essere complicato. E la stessa cosa vale per le PSG, perché PSG, Siviglia, Besiktas e Lokomotiv Mosca. Manchester United, Bayern Monaco, Sant'Etienne e Copenhagen. Manchester City, Zenit di San Pietroburgo, Schalke e Braga. Real Madrid e Wolfsburg ovviamente saranno veramente toste da battere. Oggi ragazzi però c'è una partita di campionato e dopo il calcio mercato. Vi ricordo che siamo a leggenda ragazzi, quindi è sempre una partita tosta, sono sempre partite toste. Direi che la formazione può andare bene così ragazzi, mi sembra abbastanza tosta. Icardi, Alcacerde, Pae, Cialanoglu, Tielemans, Kondogbia, Yedvai, Varane e Musacchio. Anche se Yedvai non è molto in forma. Vabbè fa lo stesso dai, proviamo. Ok ragazzi ci siamo, direi di iniziare questo match, sperando di fare una buona prestazione come quella col Cagliari. Palermo-Inter sotto la pioggia, seconda partita di campionato ma prima partita giocata fuori casa. Dopo il 3-0 contro il Cagliari a San Siro, oggi ci vediamo il Palermo. Palermo che si presenta con una formazione non mi sembra molto diversa. Abbiamo una formazione abbastanza strana, c'è un Makienok che non conosco in attacco insieme a Vasquez. La nostra formazione l'avete vista? C'è il debutto di Varane e Paco Alcacer ragazzi. Sempre sul pezzo e forza Inter. Riccardi, vede Alcacer. Si sovrappone bene Cialanoglu. Attenzione, Cialanoglu. La fida di Cialanoglu. Può andare verso il centro. Cialanoglu, il tiro di Cialanoglu. E il cautari, che chiusura signori. Mamma mia. Attenzione a Paco Alcacer che ruba un gran pallone. Il tiro di Paco Alcacer, il destro! Viviano. Miracolo. Grande intuizione di Paco Alcacer che ha intercettato un pallone rischioso. Qui Viviano fa un gran miracolo. Un ottimo destro di Paco Alcacer. Paco Alcacer, vede una imbuccata per Condogbia che prova il tiro. Viviano! Poi arriva Icardi, palo! Non ci credo. E qua si è ammagnato un gol. Mauro Icardi colpendo un palo pazzesco. Un'ottima azione di nuovo dell'Inter con Viviano che sta facendo i miracoli. Icardi. Ancora Condogbia. Può andare ancora Condogbia. Davanti a Viviano. Il tiro di Condogbia! Sul primo palo Viviano chiude benissimo. Altra occasione per l'Inter. Altro calcio d'angolo per l'Inter. La mette mezzo Cialanoglu dove arriva dei paio di testa! Ancora Viviano, signori. Attenzione al Palermo che attacca. C'è Varane che chiude Franco Vasquez. Attenzione al mudo. Chiude benissimo Varane. Aspetta l'arrivo di Cialanoglu. Adesso l'Inter si è chiusa. Quaison. Una finta. Ancora Quaison per Vasquez. Basket per Bolzoni. Nardi para facilissimo. Finisce qua il primo tempo ragazzi. 0-0. Risultato davvero ingiusto. Le occasioni sono state decisamente a nostro favore. Ma la leggenda è così ragazzi. O si segna. O si segna. Bella palla di Paco Alcacer per Depay. Attenzione Depay. Il tiro di Depay. E c'è il gol. 1-0. Memphis Depay. Che azione dell'Inter. Porca misera. Finalmente ci siamo sbloccati. Dopo un sacco di occasioni a nostro favore. Un'altra grandissima azione qua. Di tutto. Di tutta la squadra. Guardate qua. Tielemans. Per poco Alcacer. Che dà una palla di prima. Fantastica per Depay. Che dà la sua posizione preferita. Insacca col destro. Dove Viviano. Non può arrivare. E quindi. 1-0 per l'Inter. Secondo gol con la maglia dell'Inter. Per Memphis Depay. Grande acquisto. Vediamo Palermo con Vasquez. Morganella. No guardate che culo. Guardate. Varane. Bravissimo Varane. Di fisico. Però può andare a recuperarsi il pallone. Ancora gli ed vai. Mauro Riccardi. Ottima palla per Kondogbia. Davanti a Viviano. Kondogbia. Ancora Viviano. Signori. Che non si lascia intimorire dal gol subito. E continua la sua striscia comunque positivissima di interventi. E l'Inter adesso comunque può gestire. Siamo al settantesimo. 1-0. Non dobbiamo prenderci i rischi. Inutili. Attenzione perché recupera il pallone Depay. Ancora Memphis Depay. Vede l'argo De Lufeu. Che rientra sul sinistro. Poi di nuovo sul destro. Lazare chiude. Ma c'è Yedvai subito in soccorso. La mette in mezzo Yedvai. Dove c'è ancora Depay. Ancora Yedvai. Grande stop. La rimette in mezzo. Dove c'è Paco Alcacer che anticipa tutti? Fuori di pochissimo. Grande stacco qui di Paco Alcacer. Che si rende pericoloso. Al novantesimo. C'è il Palermo che si butta in avanti. Ma Paco Alcacer recupera un gran pallone signori. Grande lavoro di sacrificio in questo match per Paco Alcacer. Oh fischi. E finisce qui. 1-0 per l'Inter. Partita tostissima. Nonostante le grandi occasioni avute da parte nostra. Ottimo lavoro. Guardate Varane quanto è grosso ragazzi. Varane è immenso. Guardate qui ragazzi. 12 tiri. 10 in porta. Ottima prestazione di tutti. Ottima prestazione veramente di tutti. Allora ragazzi. Questa è la classifica come vedete. Napoli, Lazio, Las Verona e Inter. E Genoa a 6 punti. Andiamo a fare un attimo gli allenamenti importanti. Come abbiamo visto. Guardate che Paco Alcacer sta per salire di nuovo ragazzi. Però io voglio far salire Griezmann. Che dovrebbe essere tornato definitivamente. Ok ragazzi. Andiamo con il mercato. Avevo fatto un po' di richieste per qualche giocatore. Ma mi chiedono veramente cifre spropositate. Nel caso non riuscissimo a vendere nessuno. Probabilmente. Si farebbe veramente molto dura. Soprattutto perché questi portieri chiedono tantissimo. C'era questo Cataldi che mi interessava molto. Per Don Sa 14 e per Cataldi 22. Scusate. Per Cataldi 8. Ma comunque ho già fatto un paio di offertine. Prima di registrare. Quindi proseguiamo. Vediamo se qualcosa va a buon fine. Allora qua sono interessati a lungo. Ma purtroppo più di così. Io non posso offrirvi perché è il Lord Navas. Mentre per Cataldi. Non sono interessati a Luxalt. Proviamo con Andreolli. Proseguiamo. Difficilmente arriveranno delle novità ragazzi. Ho fatto una richiestina anche per Muslera. Troppo bassa. Non sono interessati ad Andreolli. Non sono interessati. Perfetto. Lord Navas è inarrivabile. Non ci contate più per favore. Addirittura se l'è presa. Real Madrid se l'è presa. Allora ragazzi. Abbiamo un'offerta per il trasferimento di Camara al Friburgo. Che è prestito per un anno in realtà. Quindi non male. Offerta per il trasferimento di Alex Meret. Anche lui in prestito. Lo mandiamo anche lui in prestito. Un mercato ragazzi che si conclude. Secondo me è un ottimo mercato estivo. Che non è andato assolutamente malissimo. Visti gli ottimi acquisti comunque di Varane. Depay, Paco Alcacer, Yedvai. Siamo riusciti a rafforzare e rinforzare praticamente tutti i ruoli in squadra. Ok ragazzi. Direi di andarci a giocare questo match con il Pescara. Prima fatemi fare un attimo la formazione. Ok. Possiamo andare con la terza partita del campionato. Partita importante. Di nuovo con una neopromossa. Il Pescara dopo la vittoria abbastanza facile, abbordabile con il Cagliari. Ok. Ci siamo. San Siro, Inter-Pescara. Seconda partita in casa dell'Inter. Seconda partita contro una neopromossa. Il Pescara. Inter come avete visto precedentemente che si presenta con una formazione come al solito molto offensiva. Perché comunque l'Inter è in grado di cambiare ruoli, cambiare formazione in corso della partita. In maniera molto diversa. Un Inter camaleontica direi quest'anno. E questa è la formazione appunto. Nardi, Show, Musacchio, Varani, Edwai, Condogbiati, Elemans, Depay, Griezmann, Icardi e Paco Alcassar. Davvero, davvero molto offensiva. Questa invece è il Pescara. Conosco qualche elemento. Conosco per esempio Vukusic, Memushai, Brugman. Mi dicono che è molto buggato. Chiude bene la difesa del Pescara. Memphis, Depay per Paco Alcassar che prova il tiro subito al volo. Al volo no, ma subito in velocità volevo dire. Tiro centrale. Facile per arresti. Attenzione a Pescara con Forte. Entra in area forte. Poi Musacchio con Varane riescono a chiuderlo. E a non regalare un calcio d'angolo. E parte bene l'Inter, Griezmann. Icardi. Ancora per Griezmann. Ci fa vedere di nuovo Condogbiati. Attenzione a Pondogbiati. Ancora Condogbiati. Il tiro a giro di Condogbiati. Un tiro bruttissimo. Un mancino orrendo quello di Condogbiati. Icardi. Bella palla per Griezmann. Mignanelli lo aiuta praticamente con il controllo. Rientra Griezmann. Il tiro a giro di Griezmann che viene deviato da Zuparic. E l'Inter passa in vantaggio con Antoine Griezmann. Molto affortunato qui l'Inter. Perché Griezmann si è fatto un ottimo lavoro. Il suo tiro probabilmente sarebbe stato parato da resti. Ma la deviazione di Zuparic è stata decisiva. E l'Inter con un po' di fortuna passa in vantaggio. Finisce qua il primo tempo. 1-0 per l'Inter. Gol di Griezmann. Con una netta deviazione. Pescaro con Nazarov. Forte. Vukusic. C'è Jedwai che prova a chiudere. Poi forte si perde il pallone. Fa ripartire l'Inter. Attenzione perché Vukusic l'ha messa in mezzo. Juxu! Il pareggio del Pescara. Pareggio di Nazarov. Juxu l'ha rimessa in mezzo. Juxu l'ha rimessa in mezzo di testa. Cosa che non doveva fare. Eh sì. Qui Juxu sbaglia lui. Poi dopo Nardi. Probabilmente i due non si sono capiti. Attenzione a Nazarov. Ha il tiro di Nazarov. L'ottima parata di Nardi. E addirittura adesso il Pescara ci mette sotto ragazzi. Addirittura il Pescara ci mette sotto. Non voglio questo pareggio ragazzi. La rischio. Attacco totale. E proviamo ad andarci a prendere questi tre punti. Varane. La larga per Juxu. Poi Felipe Anderson appena entrato. Con la sua velocità può fare dei danni. Può andare ancora Felipe Anderson. Il tiro di Felipe Anderson. Centrale. Si gira Icardi. Attenzione. Icardi davanti ad Aresti. Il tiro di Icardi. Aresti. Madonna che parata ha fatto. Che parata ha fatto ragazzi. Siamo all'ottantanovesimo. Può andare c'è la Nogolo. Attenzione. Accangia la Nogolo. Ce l'ha sul destro. La parola arriva Icardi. Ancora Resti. E due minuti di recupero ragazzi. Io non posso veramente crederci. Ultima occasione per l'Inter. Icardi. De Lufeu. Può andare Felipe Anderson. Il tiro di Felipe Anderson. Si. 2 a 1. Felipe Anderson. Al novantesimo. Che azione dell'Inter. Ancora lucida. Ancora fresca. Icardi De Lufeu. Felipe Anderson. Incrociare dove non può niente arresti. Mamma mia dove l'ha messa. Felipe Anderson. Dove l'ha messa. Da pochi metri da arresti. Uh. Che sofferenza ragazzi. Veramente. Vantaggio meritato. Perché comunque. È stata una partita che abbiamo. Non dico dominato. Ma. Ci siamo andati veramente vicino. 3 punti importantissimi ragazzi. Gran partita. Che tensione. Uh. Ci siamo andati veramente bene. Ottimo match. Peccato perché non siamo riusciti a sfruttare meglio le nostre occasioni. Guardate qui ragazzi. Cioè guardate qui. Le nostre occasioni sono state il 5 volte tante. E alla fine siamo riusciti a portarci a casa questi 3 punti. Con un'azione di prima ragionata. Molto bene. Molto bene ragazzi. Vediamo se qualcuno mi sale di overall. Speriamo. 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 Musacchio. Musacchio mi sale di overall. 84. Molto bene. Quindi ragazzi. Io direi che ci possiamo vedere nel prossimo episodio con la prima partita di Champions League. Direi che si può fare. Nel prossimo episodio faremo Champions League. Poi è la Sverona. E Napoli ragazzi. Spero che questo episodio infrasettimanale vi sia piaciuto. Quante emozioni ragazzi. Un saluto da Mezzo. Mi raccomando lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.